3 settembre 1943. Viene siglato segretamente l'armistizio di Cassibile, detto anche l'armistizio corto. È l'atto con il quale l'Italia cessa le ostilità contro le forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà non si tratta di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni. L'8 settembre alle 18.30 l'armistizio viene reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da parte del generale Dwight D. Eisenhower e circa un'ora dopo, alle 19.42, dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio, trasmesso dai microfoni dell'EIAR.